Per il tè dei grandi, Dolly uscì dalla sua camera. Stepan Arkadich non si faceva ancora vedere. Forse era uscito dalla camera della moglie per il passaggio di dietro. Temo che avrai freddo di sopra, osservò Dolly rivolta ad Anna. Vorrei farti venire giù, così staremo più vicine. Oh, non ti preoccupare per me, rispondeva Anna, guardando il viso di Dolly e cercando di capire se verrà stata o no la riconciliazione. — Qui però avrai troppa luce, rispose la cognata. Ti assicuro che dormo dovunque e sempre come un ghiro. — Che c'è? chiese Stepan Arkadich, venendo fuori dallo studio rivolgendosi alla moglie. Dal suo tono di voce, Kitty e Anna capirono che la pace era avvenuta. — Vorrei far passare Anna giù, ma bisogna cambiare le tende. — Nessuno lo saprà fare, devo farlo da me, rispose Dolly rivolta a lui. — Dio lo sa se han fatto pace in pieno, pensò Anna. Sentendo il tono di lei freddo e calmo. — Basta, Dolly, a far sempre difficoltà, disse il marito. — Su, se vuoi, faccio io tutto. — Sì, sì, devono aver fatto pace, pensò Anna. — Sì, sì, lo so come farai tutto, rispondeva Dolly. Dirai a Matfey di fare proprio quello che è impossibile fare. E te ne andrai, e lui ingerbulierà ogni cosa. E nel dir questo l'abituale sorriso canzonatorio increspò le estremità delle labbra di Dolly. — La pace è fatta in pieno, pensò Anna. Si ha lodato il Dio. E rallegrandosi d'essere stata la fautrice, si avvicinò a Dolly e la baciò. — Ma niente affatto. Perché ci disprezzi tanto, me e Matfey? Disse Stepan Arkadice sorridendo impercettibilmente, rivolto alla moglie. Tutta la serata Dolly fu come al solito leggermente canzonatoria col marito. E Stepan Arkadice contento e allegro. Ma non tanto da apparire, dopo il perdono. Dimentico della propria colpa. Alle nove e mezzo la conversazione serale in casa Oblonsky, particolarmente lieta e piacevole intorno al tavolo da te, fu turbata da un avvenimento all'apparenza quanto mai naturale, ma che sembrò strano a tutti. Parlando di conoscenti comuni di Pietroburgo, Anna si era alzata svelta. — Se no nel mio album, disse, sì, anzi, così vi mostrerò il mio seiezza, aggiunse con un materno sorriso d'orgoglio. Avvicinandosi le dieci, l'ora in cui era solita salutare il figlio o metterlo a letto lei stessa, prima di andare ad un ballo, si era immalinconita, per esserne tanto lontana. E di qualunque cosa si parlasse non riusciva più ad interessarsi, e tornava sempre col pensiero al suo sceiezza riccioluto. Era anzi venuta gran voglia di guardarne la fotografia e di parlare di lui. Approfittando del primo pretesto, si era alzata, col suo passo leggero, deciso, ed era andata a prendere l'album. La scala, per salire in camera sua, dava sul pianerottolo della grande scalinata dell'ingrasso riscaldato. Al momento in cui ella usciva dal salotto in anticamera, il campanello squillò. — Chi può essere? — disse Dolly. — Per finire a riprendermi è presto, per una visita è tardi, osservò Kitty. — Forse sarà qualcuno con le carte d'ufficio, aggiunse Steppa Markadice. E mentre Anna passava accanto alla scala, un servo corse su per annunciare chi era venuto, mentre l'ospite era in piedi sotto la lampada. Anna, guardando giù, riconobbe subito Vlonsky, e una sensazione strana di piacere e insieme di paura le agitò il cuore. Egli stava lì, dritto, senza togliersi il cappello, e tirava fuori qualcosa dalla tasca. Nel momento in cui ella fu a metà scala, alzò gli occhi, e la vide, e nell'espressione del suo viso ci fu qualcosa come tra la confusione e il timore. Ella, chinato lievemente il capo, passò, e dietro di lei si sentì la voce forte di Steppa Markadice, che invitava ad entrare, e la voce bassa, morbida e pacata di Vronsky, che rifiutava. Quando Anna rientrò con l'album, Vronsky già non c'era più, e Steppa Markadice diceva che egli era venuto per informarsi del pranzo dell'indomani, in onore di una celebrità straniera. E per nessuna ragione è voluto entrare. È piuttosto strano. Che ti arrossì. Credeva di essere l'unica a capire perché egli fosse passato di là, e perché non avesse voluto entrare. È stato da noi, si diceva, e non mi ha trovata. Ha pensato che fossi qui, ma non è entrato perché è tardi, e perché sa che anche Anna è qui. Tutti si scambiarono un'occhiata, senza dir nulla, e presero a guardare l'album di Anna. Niente di straordinario o di strano che una persona passasse da casa di un amico a chiedere i particolari di un pranzo da offrire e che non entrasse. Ma strana a tutti, parve la cosa. Più che agli altri, parve strana e inopportuna ad Anna. Il ballo era appena cominciato, quando Kitty, accompagnata dalla madre, faceva il suo ingresso nella scala grande, inondata di luce e piena di fiori e di servitori incipriati e in giacca rossa. Dalle sale giungeva un brusio, prodotto da un movimento uniforme come di alveare. E mentre esse, sul ripiano fra le piante, si andavano acconciando allo specchio le pettinature e gli abiti, dalla scala si udirono i suoni accorti e precisi dei violini dell'orchestra che avevano attaccato il primo waltzer. Un vecchietto in borghese, che esalava profumo di acqua di colonia e che ravviava ad un altro specchio le piccole tempie grigie, si imbatte in loro sulla scala e facendosi da parte ammirò visibilmente Kitty, che non conosceva. Un giovanotto in verbe, uno di quelli che il vecchio principe Sherbarchi definiva Muscardini, con un panciotto esageratamente aperto e una crevatta bianca che si andava aggiustando nel camminare, la salutò, passò oltre e tornò indietro per invitare Kitty per la quadriglia. La prima quadriglia era già stata concessa a Vronsky, fu quindi concessa al giovanotto la seconda. Un ufficiale, che si abbottonava un guanto, si scansò presso la porta e, accarezzandosi i baffi, ammirò la rose a Kitty. Sebbene l'abito, l'acconciatura e i preparativi tutti del ballo fossero costati a Kitty grandi fatiche e riflessioni, in questo momento ella entrava nel ballo così disinvolta e naturale nel suo complicato vestito di tulle con trasparente rosa, come se tutte quelle roselline e quelle trine e i particolari dell'abbigliamento non fossero costati a lei e a tutti quelli di casa neppure un attimo di attenzione, come se ella fosse venuta al mondo in quel tulle, in quelle trine, con quell'acconciatura alta, con una rosa e due foglioline in cima. Quando la vecchia principessa, prima di entrare in sala, volle aggiustarle un nastro della cintura che si era spostato, Kitty si tirò leggermente indietro, sentiva che tutto andava bene e si aggraziava addosso a lei e che non c'era più nulla da ritoccare. Kitty era in una delle sue giornate felici. L'abito non tirava da nessuna parte, da nessuna parte pendeva l'aberta di pizzo, le roselline non si erano sgualcite né staccate, le piccole scarpe rosa sui tacchi ricurvi non premevano ma rallegravano il piedino. Le folte bande di posticci biondi si mantenevano come naturali sulla piccola testa, tutti e tra i bottoni si erano chiusi senza staccarsi sul guanto lungo che avvolgeva il braccio rivelandone la forma. Il vellutino nero del medaglione cingeva il collo proprio con tenerezza. Questo vellutino era un incanto e a casa guardandosi allo specchio il collo Kitty aveva sentito che quel nastrino parlava. Per tutto il resto avrebbe potuto sussistere ancora qualche dubbio ma il vellutino era un incanto. Anche qui, al ballo, Kitty sorrise nel guardarlo allo specchio. Su per le spalle e le braccia nude, Kitty sentiva freddo come di marmo, sensazione che amava in modo particolare. Gli occhi le scintillavano e le labbra vermiglie non potevano non sorridere della consapevolezza del proprio incanto. Non fece in tempo ad entrare in sala e aggiungere fino alla folla variegata tutta tulle, nastri, pizzi e fiori delle signore in attesa di essere invitate. Kitty non si trovava mai fra queste che già fu invitata al waltzer e dal migliore, dal primo cavaliere nella gerarchia dei balli, da un noto direttore di danze, gran cerimoniere, ammogliato, piacente e ben fatto, e goroska korsumski. Lasciata allora allora la contessa bonina, con la quale aveva ballato un primo giro di waltzer, questi aveva dato uno sguardo intorno alla sua corte di coppie danzanti e avendo visto Kitty entrare, era corso verso di lei con quella particolare andatura disinvolta, propria dei direttori di danze, e dopo essersi inchinato, senza neppure chiedere se la volesse o no, aveva alzato il braccio per cingere la vita sottile. Kitty si voltò per consegnare a qualcuno il ventaglio, e la padrona di casa glielo prese, sorridendo. Come avete fatto bene a venire per tempo? Gli disse cingendole la vita. Che modo è quello di arrivare in ritardo? Piegato il braccio sinistro, ella lo poggiò sulla spalla di lui, e i piccoli piedi si mossero nelle scarpette rosa, veloci e leggeri, a tempo di musica, sul pavimento levigato. È un riposo ballare il waltzer con voi? Disse lui lanciandosi nei primi passi lenti del waltzer. Un incanto, una piuma, che precision diceva, ripetendo a lei quel che diceva quasi tutte le sue brave dame. Ella sorrise della lode, e continuò ad osservare la sala al di sopra della spalla di lui. Non era entrata in società da così poco tempo, che al ballo tutti i visi potessero fondersi in un'unica e statica visione. Non era neppure un'assidua frequentatrice, alla quale tutti i visi potessero essere così noti da poterne ricevere noia. Era nel giusto mezzo, animata, ma nello stesso tempo padrona di sé, tanto da poter osservare. Nell'angolo a sinistra vide che si era raccolto il fiore della società. Là, inverosimilmente scollata, stava la bella Lidie, moglie di Korsunski. Là c'era la padrona di casa, e là brillava con la sua calvizie Crivin, sempre presente nella cerchia migliore. Là guardavano i giovanissimi, non osando accostarsi, e là ella trovò stiva, e subito dopo vide la testa e la figura di Anna, in abito di velluto nero. Anche lui era là. Kitty non l'aveva visto, da quella sera in cui aveva detto di no a Levin. Con i suoi occhi presbiti lo riconobbe subito, e notò che la guardava. Ebbene, ancora un giro? Siete forse stanca? Disse Korsunski, sentendola leggermente ansante. No, grazie. Dove volete che vi accompagni? La Karenina è là. Accompagnatemi da lei. Ai vostri ordini. E Korsunski riprese a ballare il waltzer, smorzando l'andatura, e dirigendosi verso il gruppo che era nell'angolo a sinistra della sala, mormorando, pardon madame, pardon pardon madame. Bordeggiando fra un mare di trine, di tulle, di nastri, senza impigliarvici neppure per un pelo, girò brusco la dama, così che le si scoprirono le gambe sottili nelle calze traforate, e lo strascico ci aprì a ventaglio, e coprì le ginocchia di Krivin. Korsunski si inchinò, raddrizzò il petto aperto e le diede la mano per accompagnarla da Anna Arcadievna. Kitty, rossa in viso, liberò lo strascico dalle ginocchia di Krivin, e ancora stordita si voltò a cercare Anna. Anna non era in lilla, come proprio avrebbe voluto Kitty, ma aveva un abito di velluto nero, molto scollato, che le scopriva le spalle piene e tornite di avorio antico, il petto e le braccia tonde dal polso minuscolo. Tutto l'abito era ornato di merletto veneziano. In testa, sui capelli neri, tutti i suoi, aveva una piccola corona di violette, e un'altra simile sul nastro nero della cintura, fra le trine bianche. La pettinatura era semplice, spiccavano soltanto quelle brevi anella restie di capelli ricci, che, aggraziandola, si sbizzarrivano continuamente sulla nuca e sulle tempie. Al collo tornito e forte, aveva un filo di perle. Kitty, vedeva Anna ogni giorno, era incantata di lei, e se l'era figurata sempre in lilla. Ma ora, vedendola in nero, sentì che non ne aveva ferrato tutto il fascino. Le appariva completamente nuova e insospettata. Capì, ora, che Anna non avrebbe potuto essere vestita in lilla, e che il fascino suo consisteva nell'emergere sempre dall'abbigliamento, così che l'abito indossato da lei non venisse notato. E il vestito nero, con i merletti pregiati, neppure si notava. Era solamente una cornice. E ne balzava fuori lei, semplice, naturale, elegante, e nello stesso tempo gaia e viva. Stava in piedi, tenendosi come sempre straordinariamente dritta. E quando Kitty si avvicinò al gruppo, parlava col padrone di casa, volgendo lieve il capo verso di lui. — No, io non scaglierò la prima pietra, rispondeva, benché non capisca, aggiunse alzando le spalle, e subito si rivolse a Kitty con un tenero sorriso di protezione. Colto con fuggevole sguardo femminile tutto l'abbigliamento di Kitty, le fece con la testa una appena percettibile ma ben comprensibile cenno d'approvazione per l'abito e per la bellezza. — Voi entrate in sala ballando, disse. — È una delle più fedeli collaboratrici, disse Korsunski, salutando Anna Arkadievna, che non aveva ancora visto. La principessina ci aiuta a rendere bello e allegro il ballo. — Anna Arkadievna, un giro di waltzer, disse inchinandosi. — Ah, vi conoscete, disse la padrona di casa. — Chi non ci conosce? Mia moglie e io siamo come i lupi bianchi, tutti ci conosciamo, rispose Korsunski. — Un giro di waltzer, Anna Arkadievna. — Io non ballo quando è possibile farne a meno, disse lei. — Ma oggi non se ne può fare a meno, rispose Korsunski. In quel momento si avvicinò Vronski. — Ebbene, se oggi non si può farne a meno, allora andiamo, disse lei senza notare l'inchino di Vronski e sollevando rapida la mano sulla spalla di Korsunski. — Perché è scontenta di lui? pensò Kitty avendo notato che Anna determinatamente non aveva risposto all'inchino di Vronski. Vronski si accostò a Kitty per ricordarle la prima quadriglia, rammaricandosi di non avere avuto il piacere di vederla in tutto quel tempo. Kitty guardava ammirata Anna che ballava al waltzer e intanto ascoltava lui. Si aspettava di essere invitata al waltzer, ma egli non lo fece e lei lo guardò con sorpresa. Vronski arrossì e si precipitò a chiederle il ballo, ma non appena ebbe abbracciata la vita sottile di lei e mosso il primo passo, la musica cessò di colpo. Kitty guardò quel viso che era a così breve distanza da lei e in seguito, per parecchi lunghi anni, quello sguardo pieno d'amore che la gli aveva rivolto e a cui egli non aveva risposto. Le angosciò il cuore di tormentosa vergogna. «Pardon, pardon, un waltzer, un waltzer!» gridava dall'altra parte della sala Korsunski e presa a volo la prima signorina che gli capitò. Ricominciò a ballare. Vronski fece qualche giro di waltzer con Kitty. Dopo il waltzer, Kitty si avvicinò alla madre ed ebbe appena il tempo di scambiare qualche parola con la Norston che Vronski era già venuto a riprenderla per la prima quadriglia. Durante la quadriglia non fu detto nulla di particolare. La conversazione, smozicata, si aggirò ora sui Korsunski, marito e moglie, che Vronski descriveva con molta amenità, come cari ragazzi quarantenni. Ora sul futuro teatro pubblico e solo una volta la toccò nel vivo quando egli le chiese se c'era Levin e soggiunse che gli era piaciuto molto. Ma Kitty non si aspettava nulla di più dalla quadriglia. Aspettava invece con trepidazione la mazzurca e sembrava che nella mazzurca si dovesse decidere tutto. Il fatto che durante la quadriglia egli non l'avesse invitata per la mazzurca non l'inquietava. Era sicura di ballare la mazzurca con lui come nelle altre feste e rifiutò cinque cavalieri dicendo ad essere già impegnata. Tutto il ballo fino all'ultima quadriglia fu per Kitty una magica visione di colori gioiosi, di suoni e di movimento. Tralasciava di ballare e chiedeva un po' di riposo solo quando si sentiva troppo stanca. Ma ballando l'ultima quadriglia con uno di quei giovanotti uggiosi al quale non aveva potuto dire di no, venne a trovarsi vis-à-vis con Vronsky e Anna. Dall'inizio del ballo non si era più ritrovata con Anna. Ed ecco, a un tratto, la vide ancora del tutto nuova e insospettata. Riconobbe in lei i segni dell'eccitamento dovuto al successo che la stessa conosceva. Vedeva che Anna era come inebriata dall'incanto da lei suscitata. Conosceva questa sensazione, ne conosceva i segni e li vedeva in Anna. Vedeva lo scintillio degli occhi, tremulo e avvampante, e il riso di felicità e di eccitamento che senza volere le increspava le labbra. Vedeva la grazia misurata, la sicurezza e la levità dei movimenti. Ma per chi? Per tutti o per uno solo? Si chiese. E senza venire in aiuto al disgraziato giovanotto, col quale ballava, e che si era lasciato sfuggire il filo di una conversazione iniziata e non riusciva riannodarlo, e prestando apparentemente orecchio alle forti grida allegre e imperiose di Korsumski, che ora lanciava tutti in un grand round, ora in un chain, chi ti osservava? E il cuore le si stringeva sempre più. No, non è l'ammirazione di tutti che l'ha inebriata, ma l'esaltazione di uno solo. E chi è quest'unico? Possibile che sia lui? Ogni volta che Vronski parlava con Anna, negli occhi di lei si accendeva uno scintillio gioioso e un riso di felicità, increspava le sue labbra vermiglie. Era come se ella volesse contenersi per non fare apparire questi segni, ma questi salivano da soli sul viso. E lui? Kitty lo guardò ed ebbe paura. Ciò che con tanta chiarezza appariva nello specchio del viso di Anna, Kitty vide anche in lui. Dove erano più quell'atteggiamento calmo e deciso e quell'espressione del viso liberamente serena. No, ora, ogni volta che egli si volgeva a lei, piegava un po' il capo, quasi desideroso di caderle ai piedi. E nello sguardo suo non vi era che un'espressione di sottomissione e di paura. Non voglio offendervi, diceva ogni volta il suo sguardo, ma voglio salvarmi e non so come. Un'espressione quale non aveva mai vista nel viso di lui. Parlavano di amici comuni, facevano la più insignificante delle conversazioni, ma a Kitty pareva che ogni parola pronunciata decidesse il loro e il suo destino. E lo strano era che in realtà, pur parlando di come fosse ridicolo Ivan Ivanovich col suo francese e del fatto che per lei l'accaia si sarebbe potuto trovare un partito migliore, tuttavia queste parole avevano un senso speciale per loro, ed essi lo sentivano, così come lo sentiva Kitty. Tutto il ballo, il mondo intero, tutto si coprì di nebbia nel cuore di Kitty. Soltanto la severa educazione ricevuta la sosteneva e l'obbligava a fare quello che da lei si pretendeva, cioè ballare, rispondere alle domande, parlare, sorridere persino. Ma prima che cominciasse la mazurka, quando già si allontanavano le sedie e alcune coppie si erano mosse dai salotti verso la sala grande, Kitty fu presa da un attimo di disperazione e di sgomento. Aveva rifiutato cinque cavalieri e ora non ballava la mazurka. Non c'era neppure speranza che qualcuno l'invitasse. Proprio perché ella aveva un così grande successo in società, a nessuno poteva venire in mente che non fosse impegnata fino a quel momento. Occorreva dire alla madre che non stava bene e voleva tornare a casa. Ma non ne aveva la forza. Era struncata. Si ritirò in fondo ad un piccolo salotto e si lasciò cadere su di una poltrona. La gonna le ave come un soffio, si sollevò come una nuvola intorno alla vita sottile. La mano nuda, magra e delicata di fanciulla, abbandonata e senza forza, affondò nelle pieghe della gonna rosa. L'altra reggeva il ventaglio e con movimento rapido rinfrescava il viso accaldato. Ma a dispetto di questa sua parvenza di farfalla, attaccata appena a un filo d'erba e pronta a voler via, aprendo le ali iridate, un'angoscia paurosa le stringeva il cuore. Ma forse mi sbaglio, forse questo non è accaduto. E di nuovo le tornava in mente quello che aveva visto. «Kitty, cos'è mai?» disse la contessa Norston, avvicinandosi senza far rumore sul tappeto. «Non capisco». La Kitty tremò il labbro inferiore, si alzò in fretta. «Kitty, non balli la mazzurca?» «No, no», disse Kitty con una voce che tremava di lacrime. «Lui l'ha invitata davanti a me per la mazzurca», disse la Norston, sapendo che Kitty avrebbe capito chi era lui e chi era lei. «Lei ha detto? Non ballate forse con la principessina Sherbaccaia?» «Ah, a me che importa?» rispose Kitty. Nessuno all'infuori di se stessa poteva capire la sua situazione. Nessuno sapeva che l'aveva detto di no il giorno prima a un uomo che forse amava e che gli aveva detto di no perché credeva in un altro. La contessa Norston trovò Korsumsky, col quale doveva ballare la mazzurca, e gli impose di andare ad invitare Kitty. Kitty ballava nella prima fila e per sua fortuna non doveva parlare, perché Korsumsky correva su e giù tutto il tempo dando ordini al suo stuolo di ballerini. Vronsky e Anna erano situati quasi di fronte a lei. Li vide da lontano con i suoi occhi presbiti. Li vide poi da vicino quando si incontrarono fra le coppie, e più li vedeva più si convinceva che la rovina sua era compiuta. Vedeva che essi si sentivano soli in quella sala piena di gente, e sul viso di Vronsky, sempre così deciso e libero, vedeva quell'espressione di sbarrimento e di sottomissione che l'aveva stupita, l'espressione di un cane intelligente che si senta colpevole. Anna rideva e il riso si trasmetteva a lui. Anna diveniva pensosa ed egli si faceva serio. Una forza magica attirava gli occhi di Kitty sul viso di Anna. Ella era incantevole con quel semplice vestito nero, ed incantevoli erano le braccia tonde con i bracciali e il collo forte col filo di perle. Incantevole la capigliatura inannellata e sciolta, e incantevoli le movenze lievi dei piccoli piedi graziosi e delle mani, e il viso piacente pieno di vita. Eppure c'era qualcosa di pauroso e di crudele in quell'incanto. Kitty l'ammirava ancor più di prima, e sempre di più soffriva. Si sentiva stroncata, e il suo viso lo rivelava. Quando Vronsky, scontratosi con lei nella mazzurca, la vide, non la riconobbe al primo momento, tant'era mutata. — Splendido ballo, le disse, tanto per dire qualcosa. — Sì, rispose lei. Durante la mazzurca, ripetendo una figura complicata inventata da Korsunski, Anna uscì nel mezzo del circolo, prese due cavalieri, e chiamò a sé una signora e Kitty. Kitty la guardò come spaurita e le si accostò. Anna la guardava socchiudendo gli occhi, e sorrideva stringendole una mano. Ma, visto che il viso di Kitty rispondeva al suo sorriso con disperata sorpresa, si allontanò da lei, e si mise a parlare allegramente con l'altra signora. — Sì, c'è qualcosa di strano, di diabolico e di affascinante in lei, si diceva Kitty. Anna non voleva restare a cena, ma il padrone di casa cominciò a pregarla. — Su via, Anna Arkadievna, prese a dire Korsunski mettendo il braccio nudo di lei sotto la manica del suo frac. — Che idea mi è venuta per il cotillon! Un bijou! E si spostava poco a poco, cercando di trascinarla. Il padrone di casa sorrideva, approvando. — No, non resterò, rispondeva Anna sorridendo, e malgrado il sorriso Korsunski e il padrone di casa capirono, dal tono deciso di lei, che non sarebbe rimasta. — No, anche così ho ballato più a Mosca al vostro ballo che un intero inverno a Pietroburgo, disse Anna voltandosi a guardare Vronski, che stava in piedi davanti a lei. Bisogna riposare prima di intraprendere il viaggio. — E voi partite certamente domani? — Sì, credo, rispose Anna, sorpresa dell'audacia della domanda. E mentre diceva queste parole, irrefrenabile, tremulo scintillio degli occhi e del riso, arse lui. Anna Arkadievna non rimase a cena, e andò via.